Trascinatemi nel fuoco, trascinatemi in acqua, trascinatemi al patipolo o anche a qualsiasi morte. Potete farmi commettere ciò che più evito. Questo e la confusione che ho in mente, che mi rende buono a nulla, è ciò che intendo quando dico che siete la mia rovina. Perché ti fermi? Andiamo via. Andiamo via. Andiamo via. Sì, 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 sì.